Un momento di serenità in nome della fratellanza, quello regalato quest'oggi dalla Guardia di Finanza di Pescara ai bambini del quartiere di Rancitelli e dell'Ucraina. I bambini hanno avuto la possibilità di fare una visita guidata presso gli ormeggi della stazione navale dove ad aspettarli virano baschi verdi, cinofili, sommozzatori e piloti aeronavali. La necessità di manifestare la solidarietà a queste persone è un punto fondamentale che il corpo tiene ben presente e vuole essere assolutamente vicino a queste persone, manifestare la nostra vicinanza e dare il segno di una buona Pasqua a queste persone che sono sicuramente in parte lontane dalle proprie famiglie e hanno la necessità di serenità. Il nostro intento è proprio questo, di regalare una giornata dove i bambini possano sentirsi accolti dal personale in uniforme, dal sentirsi coccolati in questo momento e dare un segno di pace a queste persone. Dalla foschia mattutina e per la curiosità di Piccini e non solo, ecco sbucare Leonardo a W139, elicottero che si vede senza essere visti. Allora tutti con gli occhi all'insù, agitando le mani e sperare in un futuro migliore.